Sono quasi le due del pomeriggio quando il corpo di Mattia Dittadi lascia il teatro Momo di Mestre. Le indagini sulle cause dell'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita rimangono coperte dal più stretto riservo. Di certo c'è che Venezia e il Veneto piangono un'altra morte sul lavoro. Dittadi era tra i responsabili per il nord-est di Enricchipo, una grossa azienda che offre tra l'altro diversi servizi di manutenzione degli edifici. Sarebbe caduto da un lucernaio che forse ha ceduto attorno alle 10.30 di mattina mentre assieme a dei tecnici comunali era impegnato in un sopralluogo per delle infiltrazioni sul tetto. Aveva 45 anni e viveva a Oriago di Mira. A presa la notizia il sindaco Marco Dori ha immediatamente espresso il cordoglio del comune. Io non ho dirette conoscenze però in queste ore sono già arrivate delle telefonate di persone che lo conoscevano molto anche loro spiazzate, tristi perché è un ragazzo che si faceva veramente voler bene da tutti. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti lo spisa, i carabinieri e la polizia locale. Per tutta la mattina l'intero isolato è stato recintato da via Dante a via Cappuccina. Dittadi era sposato con un figlio. Penso che in questi momenti l'unica cosa che possiamo fare è veramente pensare a chi purtroppo non potrà più avere questo affetto a loro, alle famiglie, ai parenti. Veramente è il nostro più vicino cordoglio.